E' il processo dedicato ai rapporti con la politica. Il montante bis ha preso il via questa mattina nell'aula bunker del carcere Malaspina di Caltanissetta. C'è anche libera l'associazione di Don Luigi Ciotti tra le nuove richieste di Costituzione Parte Civile. Nuove richieste tra le quali quella del giornalista Gian Piero Casagni, già Parte Civile, nelle altri filoni del processo, un ex dirigente Asi e poi ancora l'ex sindaco di Racalmuto, la Codacons e Acque Siculiana Spa. Si aggiungerebbero a già le 15 parti civile ammesse nell'udienza preliminare. Sono 13 gli imputati in questo processo nato sempre dall'operazione Double Face. Non erano in aula Antonello Montante, ex leader degli industriali siciliani, e Rosario Crocetta, ex governatore, principali imputati, mentre invece si sono presentate Mariella Lobello e Maria Grazia Brandara, la prima ex assessore dell'aggiunta Crocetta e la seconda ex commissario Irsap. Tra gli imputati anche Linda Vancheri e numerosi ufficiali delle forze dell'ordine. Secondo i PM Claudia Pasciuti e Davide Spina, gli indagati avrebbero fatto parte del cosiddetto sistema montante. La procura di Caltanissetta contesta presunti finanziamenti illeciti che sarebbero stati erogati per sostenere la campagna elettorale dell'ex governatore Rosario Crocetta. Gli indagati sono accusati a vario titolo di associazione a delinquere, corruzione, abuso d'ufficio e finanziamento illecito ai partiti. La prossima udienza è il 25 di maggio.